Salgono la preoccupazione e la tensione fra i lavoratori delle officine meccaniche Cerutti, in sciopero contro la proprietà che ha dichiarato 163 esuberi e la chiusura della fabbrica di Vercelli. Ieri una delegazione di tute blu, cappeggiate dai sindacati FIOM e Wilm, è stata ricevuta dal prefetto di Vercelli, Francesco Garcia. L'impegno è di creare un contatto diretto con il governo affinché i lavoratori non vengano lasciati soli. Sostegno anche da parte dell'amministrazione comunale e del suo sindaco Andrea Corsaro. Intanto è previsto per oggi un incontro con la proprietà che stima di continuare a far lavorare, grazie ad una New Co, 125 dipendenti fra Vercelli e Casale. E poi c'è l'incentivo ad andarsene con in tasca 6.000 euro, proposta ritenuta dalla maggior parte dei lavoratori un'offesa. In Piemonte dovrebbe restare in attività solo lo stabilimento di Via Adam a Oltrepunte, sede storica di un gruppo dal passato glorioso, iniziato nel 1920 con Giovanni Cerutti e divenuto leader mondiale per le macchine da stampa per giornali, poi riconvertitosi in parte, a causa della crisi della carta, con la produzione di macchine per imballaggio. I sindacati auspicano un piano che duri più a lungo nel tempo, mentre il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, rinnova la propria vicinanza agli operai e alla famiglia Cerutti, ricordando che la sua amministrazione comunale farà di tutto per cercare di mantenere a Casale questa azienda che, se non ci saranno concrete manifestazioni di interesse, ha il tempo contato.